...leggiato con la puzza sotto il naso, testa di cazzo Franchino, hai un alleato Siete una manica di tigli in bontana Vi taglierò la faccia, lo giuro Vi taglierò la faccia, pupazzi di merda Non vi preoccupate che quattro schiaffi a testa Non ve li leva nessuno A sto giro vi siete fatti la croce con le vostre mani Certo addirittura, Shadow Walker Ovvio! Certo! Il Nutellone! Cazzo di lavoro, eh! Ragazzi siamo qui con Martina Di 17 anni 50 kg di peso corporeo Raga, mi tocca subire Ste bordate, voi direte come bordate Muovete così, eh, ma muovete un po' 2, 1, tempo! Esci, esci! Stop! Fattosciato col pennello Io, Big Luca, sono dovuto uscire dalla mia pensione Per venire a rimostrarvi la via del lucro Ora, ammetto una certa delusione Perché pensavo che certi concetti negli anni Non avessimo lanciato 350.000 corsi Non avessimo fatto miliardi di campagne di marketing Ed educato l'intero genere umano Si può dire italiano Non pensavo che certi concetti fossero passati Ok? Per esempio che la tattica è diversa dalla strategia Cose del genere Mi sono reso conto che questi concetti non sono... A te! Ma che stai a fa' Ricordate che i giani Stanno arrivare! Hello! Closhards! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Ci chiedevamo giustamente ma quanto è durata la pensione di Big Luca? Due settimane? Sì! Vuole proprio lavorare a stuomo? Eh sì! La finta gimmick di quello spalmato sul divano che mi frega un cazzo in realtà deve campare Come tutti noi Ovvio! Ma infatti pure lui deve sbarcarlo un ario giustamente Solo che lui fa finta è quella la cosa Fa finta di lavorare dici? Ma fa finta di essere Finge Sì è vero Hai educato tutto il genere umano italico Tutto il genere umano italiano è vero Vabbè giustamente Bella per canto Bella Plot Wish Belli regà Belli Allora stasera ore 21 parleremo di un altro guru Un figlio si può dire insomma di Big Luca Mi stanno un po' tutti sulle bols oggi Devo dire Un aborto Mi stanno tutti sulle bols Hai visto? Le massime No e qui non c'è Ah oddio non la voglio Mi stanno tutti sulle bols Sulle bolsman Sulle bolsman Bellissimo Allora regà Stasera staremo tutti sul bolsman Eh sì Stasera ci sarà anche bolsman ovviamente E da un bel po' tra l'altro Che non vengono su questo lido Bolsman e Germanone Se sia un personaggio interessante Devo dire Il buon Luca Valori Ma chi è? Eh beh ragazzi Stasera vedremo Cioè grazie a me Lo stasera acquisirete informazioni Esamineremo quali sono i suoi valori Se vi riferite a chi è qui sopra Siete ignoranti No ma non ve lo diciamo Recuperatevi le puntate precedenti Aspetto solo la reazione al video di Victor Oh Mi sono svegliato stamattina con una gioia nel cuore Eh sì Il tag Che ha recensito? Il tag La colomba Che ha recensito? È arrivato il tag di Victor Laszlo Un nuovo episodio del format più atteso Il format più amato dagli italiani Le recensioni culinarie di Victor Laszlo 88 I dolciumi di Ginio Massari Appuntamento fisso come Sanremo ormai Esatto esatto Un format incredibile Vabbè Tutti aspettano Io non ho visto Ho visto solo i primi tre secondi Non l'hai visto? No ho visto i primi tre secondi Perché mi ha attaccato nella storia E ovviamente l'ho ricondivisa al buio Ok E ho detto Poi alle 15 lo vediamo in diretta Prima ti ho fatto un'analisi Perché l'ho visto Poi se La ripeto Sì la devi condividere assolutamente Vabbè Allora ragazzi Velocissimamente Parliamo De sto soggetto De sto top rimasto Andrew Tate Allora La Romania concede L'estradizione Nel Regno Unito Di Andrew Tate Da quello che ho capito io Durante una diretta È uscito fuori il discorso Ne voglio da Dalla Romania Ebbè Giustamente Dopo una certa E quindi giustamente La Romania ha detto no Piatevelo voi del Regno Unito Questo è quello che ho capito ieri Ma leggiamo Insieme al fratello Tristan Ma solo dopo il loro processo A Bucharest Allora La giustizia rumena Fa sapere che Acconsente All'estradizione Del controverso influencer Andrew Tate E di suo fratello Tristan Nel Regno Unito Dove sono accusati Di stupro E aggressione sessuale Tra l'altro lui era già andato In carcere in Romania Ma ne avevamo già parlato Ma solo dopo Ah sì poi L'avevano rilasciato Però lì L'accusa era Se non erro Traffico di esseri umani Esatto Che comunque È una cosa gravissima Sempre legata alla prostituzione Sì legata alla prostituzione Alla diciamo Anche Coercizione Presunta Insomma C'erano vari Possibili capi di amputazione Poi non si è ben capito Anche perché io non conosco Sinceramente L'ordinamento rumeno Quindi non so come alcuni reati Sono configurati Però insomma Sì C'erano varie accuse I due sono stati Nuovamente arrestati Oggi dalla polizia rumena In esecuzione Del mandato di cattura europeo Emesso dalla giustizia britannica Lo scorso 19 gennaio Successivamente I due fratelli Tate Sono stati rimessi in libertà Anche se restano Sotto controllo giudiziario Lo ha constatato Una fonte giornalistica Sul posto Per qua non dice una cappella Quindi quando si è messo A fare podcast Là in Romania Comunque era sotto osservazione Sì Ok Allora Questa La vediamo Sono internazionale Ma che è Tutto Ma che è successo Opaco Ma che è successo E che ne so No La dv No Non è a dv A dv Se vado più veloce Grazie per la sub È a dv Prova a andare indietro Con lo zoom Che magari riesce a fare Una pubblicità Aspetta Ti hai ragione Vai No Così è più indietro possibile Cioè raga Ma questa è una cosa assurda Vabbè Dai Comunque non L'ho linkato abbastanza Ecco Andrew Tate La stessa canzone poi Cadde il mar Fratello di San Il ciboom italiano E vai col buff Chris Bamstead Che è il campione Del bodybuilding Categoria classic Fisica Vabbè Comunque L'influencer Andrew Tate 37 anni Noto per le sue posizioni Misogine È stata arrestata In Romania Sulla base di accuse Di aggressioni sessuali Commesse Il Regno Unito Comunque Ogni volta Cambia reato Sono tutti un po' simili Però cambiano Diciamo Definizione Tate Comunicazione Stupro aggravato L'estradizione Risalenti 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 al 2012 Non l'ho aperto Non l'ho aperto Però velocissimamente L'ingua estera L'ingua estera No c'erano degli articoli Che citavano il discorso Della diretta Eccolo qua Andrew Tate Arrestato Dopo Una diretta Con Edin Ross Blablet Blablet About Escape Plans Dopo aver Blablato Dopo aver chiacchierato Sul suo piano di fuga In una diretta Su Kik Si è fatto sfuggire I suoi piani di fuga Su Kik Pensate Kik Esatto Questa era la cosa Che dicevo solo Che è Rolling Stones A pagamento Quindi essenzialmente Ha annunciato Me ne voglio andare Dalla Romania Sì Non poteva farlo Quindi se ne sono accorte Le autorità E hanno deciso Quindi di Procedere con l'estradizione Sì praticamente Lui è Non voglia andare In Regno Unito Per una questione Di vergogna Credo Poi non lo so Meglio sta in carcere In Romania Credo che sta in carcere In Regno Unito Poi non lo so Oddio questo non lo so Probabilmente Le accuse Nel Regno Unito Sono più gravi Sì ma perché Nel Regno Unito Poi Nel Regno Unito Lui è accusato Di stupro aggravato Coercizione D'aggressione Qui Traffico di esseri umani Però era già stato Scarcerato Per questa cosa La mia teoria è che Lui Essendo una figura pubblica Io preferirei Essere arrestato Per una cosa Così grave Perlomeno in un posto Dove mi nascondo Dove non possono Venirmi Né media inglesi Né media americani Troppo a rompermi Anche se poi L'hanno fatto Se ti ricordi Erano andati sotto casa In Romania Sì però appunto È molto più difficile Se invece sta in Inghilterra Sicuramente gli potrebbero Più rompere i coglioni Guarda questo Non te lo so di Sicuramente Quale sarebbe un vantaggio Nel restare in Romania È il fatto che in realtà Le accuse in UK Siano molto più pesanti In realtà in Romania Lui è già stato scarcerato Per le accuse Cioè era finito in carcere Ma poi è stato rilasciato Quindi potrebbe essersi Mezzo salvato da quelle Ma non da quelle Negli Stati Uniti E dopo questa roba qua Tra l'altro qualcuno In chat diceva In realtà lui l'ha scritto Privatamente Ad Adin Ross Adin Ross l'ha detto In diretta Su Kik Top snitch E quindi evidentemente Insomma le autorità rumene Hanno detto Sì No Te non scappi Ti riconsegniamo Al Regno Unito Eh sì Perché probabilmente Lui se ne sarebbe andato Chissà dove A Dubai Sicuro non Non tornava là Se fossero davvero colpevoli Perché non sono scappati Adifici Anziché all'epoca Della sfiducia di Romania Vabbè Lovely Ma non è che Noi ci abbiamo Carte alla mano Per poter decretare La colpevolezza O l'innocenza Dei fratelli Tate Ma che cazzo Ne sappiamo noi Volevo andare in Romania Ma che ne sappiamo noi È innocente Per farlo stare zitto Con la questione La Jan Garcia Beh raga Cioè Mù veramente Al di là di tutto Ma nessuno di noi Ha elementi Cioè Quindi ovviamente È innocente Fino a prova contraria Come in qualsiasi cosa Però mù addirittura È innocente al 100% Sono accuse false Matrix Cioè Raga Non finisci in prigione così Cioè Non stavo in un film No il Matrix sì No sì In un film di spionaggio Non è che è così semplice Voi che magari Lo identificate Come eroe Come Sobversivo Sicuramente ci sarà Un complotto Però non è che finisci in prigione Ripeto Così Poi staremo a vedere Però addirittura Dare per certa La totale innocenza No è follia È fanatismo Eh sì Ovvio Oppure ecco Bersi la cosa Del Tutti contro De lui Hanno paura Cioè Vediamo Raga Poi qua non è che abbiamo detto È colpevole Innocente Abbiamo letto I capi di imputazione Abbiamo visto insomma Le Le evidenze Che ci sono al momento Stop Bannacci Ho corteggiato Una trans Senza saperlo Allora regà Io devo dire una cosa Appena ho sentito Questa dichiarazione Mi son detto Palese cazzata Palese citazione Avventura con un travestito Di Califano 100% Sì Una roba tipo Alla Luca era gay Cioè scenari immaginari Per poter dire delle cose Sì sì Per tante ragioni Però Ma è la mia esperienza Ma che sono obbligato A scoparmela Cioè Non posso neanche raccontare Sono sicuro al 100% Guarda qua Invece faccio un processo Alle intenzioni Guarda Veramente Se ci fosse la bocca Della verità Sarei disposto Quella dove Tagliavano la mano Sarei disposto A mettere la mia mano All'interno Sì sta mentendo C'è una storia inventata Palese Vediamo come lo dice Questo è un giorno da pecore Una trasmissione radio No 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 È un video Io non sono io Che ho corteggiato Un uomo No una donna Che poi mi sono reso conto Che tanto donna Era un uomo Eh sì Scusi Eh no me ne sono accorto Ma sei accorto Che era troppo tardi No me lo hanno detto Perché veramente Era quasi irriconoscibile Era quasi irriconoscibile Era un transessuale Sì Poi ho chiesto conferma E mi ha dato la conferma E la cosa è finita Che non è una parabola Che non ha veri dettagli Ma è così È una parabola Mi sembra proprio Una cazzata gigante Ma poi Me l'hanno detto No no Vabbè Ma guarda che Vannacci Non dice mai cose Molto brutali In termini di linguaggio Cioè la forma La utilizza Sempre in maniera Abbastanza neutra Cioè tu Non lo vedrai mai Dire una roba Super sboccata È quella È quello Lappiglio Capisci Cioè pure qua Ci mancherebbe Ma che ho detto Niente Diciamo che Queste storie Perpetrano Lo stereotipo Che i transessuali Vogliono ingannare In qualche modo Che stanno là pronti A ho ho A fatte la sorpresina Quando non è così Lo dicevate voi Non c'era Problema però Ma non c'è problema Neanche in suo caso Buchello Cioè Stiamo semplicemente Dicendo E penso che Alla Settantacinquesima Dichiarazione pubblica Anche tu Sia in grado Di capirlo Stiamo semplicemente Dicendo che Casualmente Qualsiasi sua Affermazione Che poi viene ripresa Tutte le testate C'ha sempre Quel sottotesto lì Com'è possibile Com'è possibile Sempre Perpetrare Il verbo Ignorante Che è Perpetuano Che cazzo è Perpetuano Quella è un'altra cosa Comunque È un po' Un controsenso Per quanto è molto Gentile Come si pone Da quello che scrive Come vede Il mondo Comunque Su questo argomento Insomma Abbastanza Più crudo Ecco Sul fatto Che comunque Ci hanno un problema Che vanno curati Insomma Ha detto delle cose Abbastanza No no Appunto Dico Però lui si rende Inattaccabile Perché In questi video Come Come Gli scementi In chat Pochi Si rende Il transessuale Come il mosso Come il minic Ma non ha detto niente Ma ha detto Ha detto che ci ha provato E poi torna Che sa Deve scopare per forza Ma ovviamente Ovviamente no Ovviamente no Non è quello il punto Il punto è che Sembrano tutte Proprio strutturate Per un fine Abbastanza evidente Se non ve ne siete accorti Avete veramente 70 anni Ma Di età mentale Ovviamente Allora Prima di Victor Gumeroni No 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 Aggiorni Allora Analizziamo Io so che hai recitato Però Ma è Medi Cartier Questo Chi è? Una persona? Sì No Pischello Non mi prendi in giro Sembra però C'è via C'è via Il modo di parlare Tipico questo Come lo definiremmo? Ok Vorrei trovare un termine De questo tipo di parlata Cioè Ascoltate Ripeto So che hai recitato Però I pischelli Parlano effettivamente Anche così Devi ridare una mano Per forza Un'altra volta Mi servi Dimmi Fratello che puoi Perché fratello C'è presente L'altra volta Mi hai dato l'outfit E fanno a ballare Grazie all'outfit tuo Ho rimorchiato uno E stasera ci devo uscire Però Mi riserve un'altra volta Una mano Che non so Cioè Per parlare così Devi Completamente diventare Inespressivo Quindi Qualsiasi movimento È difficile Perché sono molto Espressivo Quindi è proprio Oh frate Oh Cioè devi proprio Lasciandare tutti i muscoli Del volto Infatti non so Come cazzo fanno Mimo parlante Devi Devi Cade il Ma conosco Tantissime persone Che appena Bicio Se mettono davanti Magari una telecamera O gli punti Un telefono Diventano Delle amebe Ah quando gli punti La telecamera Sì 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 Ok 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 Conosciute tante Anzi Bicio è così Di default No Bicio è espressivo Vabbè Vabbè Ti serve per una battuta Ci penso io Che personaggio scegli Nessuno Sarà un involucro Soprattutto quando reciti La membrana Devi di tre parole E ti fanno Ah devi Entrate ragazzi E fissa No ma non guardare Entrate ragazzi Però tutto paralizzato Comunque come definizione Non lo so Potremmo chiamarlo Il linguaggio del coatto Timorato di Dio Capito Cosa del genere Perché in realtà Si evince che Hanno paura di esprimersi Mo lasciate perdere Stanno a recitare Lo stanno a fare Il coatto composto Capito Cioè questo tipo di parlata Esiste Sì A voi A voi È solo ripresa Magari esagerata E fatta apposta qui Però stiamo parlando Di una cosa che esiste Quindi sì E si evince sempre Una paura di esprimersi In realtà sono più timidi Sì Fanno magari i coatti Ma sono i più timidi Del gruppo Hai paura di mostrare Dei lati di te Un'emozione Banalmente Certo frate Che problema c'è sta Adesso ti faccio vedere Un outfit La prima cosa Ti faccio testo completo Basic a collo alto Violetto Ma non è lui mascherato Ma come no È lui con baffetto Non è lui mascherato Lui chi Sono due ragazzi Mi sembrava a lui Che faceva tutti I due personaggi Cor baffetto Il cappello Perché hanno la stessa Non personalità Hai capito Ma con st'altro taglio Ho la gimmick del giovelier Questo Romano però Se ne ha messo il cappello I baffi fini Le persone sono diverse Però no Nei gruppetti Sembrano tutti uguali Proprio per questo E te con quel cappello All'inizio non sarà capito Poi Le scappette Fanno con le campus grigie Ammazza Vedete che outfit Che mi hai fatto È proprio top Questa è la felicità Esatto Cioè vedi che Anche l'euforia Comunque è falsa Oh Mosso Che taglio Grandi per questo sub Grazie per le sub Già sto ride troppo Stai ride con gli occhi Non mi ride Grazie per le sub Regà Siete proprio dei grandi Grazie per le sub Eh regà Mazza con te sub Eh regà Eh regà Cioè non è che fai Oh ragazzi Grazie mille per le sub Quello è tipo Xuter Poi che ne pensate Dell'outfit Bello bello Pigiamone Celeste È un po' maranza romano Diciamo Un po' coattino romano Le torbella Ha fatto più danni La trappa Di una bomba nucleare Mannaggia Comunque l'outfit Devevi tardi Comunque mi sa Che è lui Per davvero Ma che è lui Ah sì Mi sa che è lui Mi sa che è lui Col baffetto fin Il cappelletto No ma è sempre lui A parte le gag È lui È lui regà Mi pareva Guarda È lui Il naso è diverso Però è lui È lui È lui Se no sono fratelli Saranno fratelli Ma potete mettere Un altro contenuto C'è un truccatore No che fallo Effettivamente Non l'ho aperto Eh vabbè Comunque è impossibile Ogni volta Questa storia Dress dream Cioè è veramente Una cosa allucinante Addirittura No no che fai Addirittura Ma cosa stai facendo Come i vecchi Ma perché io sono andato Come i vecchi Perché c'è scritto Google ma in realtà è Chrome Perché No è la pagina iniziale De Chrome No ma No Però non ho aperto Ah è Safari È Safari Adesso 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 sì Dress dream Tra l'altro Vediamo un po' È tornato Le tute Basic Primaverili L'abbiamo in queste colorazioni qua Turchese Rosa Viola Tiffany Beige Tiffany Top colore Tiffany Ma so carine Ciao ragazzi Le tute del momento Se frega un cazzo Vogliamo quelli recitati Dove l'hai trovata Sta pagina Mi è apparsa Nell'algoritmo Ma è pure piccolina È tipo un negozietto Forse l'ha sponsorizzato Era magari Quel reel in particolare Che oh è birale No questo cazzo Tutta rossa Mi sa che fa ride Ciao a tutti ragazzi Guardate Da sto Sono la prezzo dream Oh frate Ma che cosa stai fa Oh Vabbè Frate Che Sto a fare una storia Dovresti essere pure contento Io sono famoso Ho 300 follower Ma questo sta un pisciato Vabbè dai Sbrigate Dimmi quello che ti serve Che io poi c'ho da fare Vabbè frate Anzitutto non si trattano così I clienti Poi Volevo un paio di scarpe Però Uno c'è otto E che problema c'è sta Frate Ora ti faccio vedere Campus 00S Vieni Guarda un po' C'è la stia Anzitutto sopra Vabbè frate Io vado a provare Queste mie Ah Vabbè frate Non ho queste scarpe Spettacolare Che non mi dico E certo frate Che te pensavi Sei ad adresso di Rima Mica pizze figlia E conclude sempre così Tra l'altro E poi È già la seconda volta Che sto pischello Esce dal camerino E si tiene un po' Il pisellino Si tiene la punta Del pisellino Ma perché Mettine un altro 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 Ma in che senso Forza Stasera devo andare a ballare Ma so proprio Edi Continua a toccarsi Il pisellino Non solo quando esce Dal E quando stavi Dici Tainzendo Mettere le mani Vedo che ha Della punta Del pisellino E poi Un'ultima cosa Maglioncino Intrecciato Bello Oh frate Ma un po' Ancora Mi piace Pupo tanto Ecco è pisellino E vabbè Me ne so accordo Mica pizza e fighe Giustamente Mica pizza e fighe Vabbè Dei kings Sì ma pure Nei video di prima Lo faceva sempre Un vero uomo Se tocca il cazzo Almeno una volta Ogni tre parole Il cazzo Grazie mille Per la sub Allora Ragazzi È arrivato quel momento Il momento che Tutta Twitch Italia Aspettava Io ho flusciato Un serpente Da questo Di primo frame Ma il cuscino Sì Vabbè Andiamo bene Buona La reaction Del Cebro Podcast Al miglior Foodblogger italiano Anzi Food Reviewer Che non è un Foodblogger Sì Iginio Lo ha fatto Di nuovo E noi faremo Una recensione Come sempre Sulla recensione La recensione Sul recensore Sì Sì Ci ha pure taggato Quindi ormai Capito È pure consapevole Del meme Iginio Che è già un meme De suo Tra l'altro Iginio Massari Disperato È grave Lui Il maestro Lo ha fatto Di nuovo Mi è arrivata La colomba Di Gino Massari E io sarei a dietro Ma ci ho preso Facciamo uno Strappino alla regola Non lo sapevo Com'è Ma credo Sia un po' Diversa Ma perché a colomba In che periodo Stiamo È quasi carnevale Pasqua Carnevale Ma te stai proprio a dormire Marco lì Quasi carnevale La famosa colomba Di carnevale Ebbene non è De carnevale Quando cade Pasqua Quando cade Pasqua Io so Frego da un altro pianeta Che cazzo ce frega a noi Marco ma io sto E sarà a fine aprile Io Pasqua Non so quando è 31 No bello Cade a marzo Vuol dire qualcosa Fine marzo Morimo tutti È raro Erano un sacco di anni Che non cadeva a marzo Fine marzo Proprio 31 E che facciamo Niente In teoria a Pasqua Si dovrebbe andare Ad apprezzare la natura Sì Sì dai Vabbè andiamo a dar fuoco A qualche isola verde Ma perché Ma anche il pazzerello Piove Dovremmo andare a fare Un picnics Un piccolo picnics La bella griglia Un picnics in Irla Con la chat Aspetterei Eh che ne dite chat Vi piace come idea Party picnic Perché no Aspetterei maggio Ci portiamo la colomba Di Iginio Massari Che ora sta recensendo Victor Lass Eh sì Sì Questa mi sa che è al pistacchio Perché la vedo La vedo verdina Come potete vedere Apriamola La vedo verdina Allora E Allora Un Una persona che recensisce I cibi No Ad esempio Come il qui presente Gianluca No Che cos'è recensire Tu Che cosa fai Tu prendi un qualcosa Di concreto Come può essere Supply E ne trai La poesia Perché Sei in contatto Con i tuoi cinque sensi Banalmente Riesci A tradurre Quello che tu senti Con i sensi In parole Ora Victor Laszlo Che De parole Ne sa tantissime C'è una parlantina E anche invidiabile Qualcuno direbbe Cioè Ti prende un film E te lo Te fa una recensione De un'ora e quarantacinque A parlare A macchinetta Non mi riesce A descrivere Una colomba Non mi riesce A descrivere Un gusto Un odore Che sente Una cosa Che vede Quello che Sono abilità Diverse Gianluca Prende il concreto E lo trasforma In poesia Victor Laszlo È più Mentale Poco Sensoriale Lui prende Opere astratte Come film Che è una cosa Astratta E riesce A condensarlo In In un'opera In una recensione Concreta Riesce a spiegarne I meccanismi Il contrario no È per questo che Non sono buone Recensioni culinarie Però è affascinante Un'ottima disamina È una critica costruttiva Assolutamente Bellissima critica Però è questo Che lo rende proprio Affascinante Vederlo mangiare Ma per noi Come vede un cyborg Per noi che siamo matti Però Sì Ma noi che siamo fatti Noi siamo strani Un cyborg Che Gino Massari Paresemente Non guarda La recensione Di Victor Gli continua a mandare Ma neanche il suo staff Ma per simpatia Glielo lasciano fare Ma sì Ma sì Ma non credo Sì Ovviamente noi Ogni volta Lo propsiamo Quindi io spero Che Gino Continui a mandare Fino alla fine Dei suoi giorni Dei suoi giorni Materiali a Victor Però A voi Ma guarda che sta anche migliorando Poi Cioè nella prima recensione Vomitava Ovvio Cioè l'avamo Non tomando più il prodotto Questo è vero Questo è vero Già qua È un po' meglio Però capito Dovrebbe Secondo me Se ve lascia andare Lascia andare Senti le sensazioni Parla delle sensazioni Che provi Dell'odore Del tatto Cioè capito Vista Tatto Odore Olfatto e gusto Dai un po' Basta Non concetti Astratti Cose No Quello che senti Però a Masterchef C'è nato lui Mica io Ma che canata fa a Masterchef Assaggiar cibo Eh sì Guarda È assurdo Cioè dovresti Stattè Cioè è follia Fatto da giudice Per carità Non è che ci dovrebbe Staggia Luca Al posto di Victor Laszlo Però secondo me Conoscendo entrambi Già Luca A livello Solo in questa cosa specifica Sta a un livello Proprio Oltremondo E quindi Dovrebbe Sì La passione Come lui c'è la passione Per il cinema C'è la passione Per il cibo Sì sì Se tu ti metti a parlare De cinema Cioè non è che io Mi impegno È una cosa che faccio In maniera tranquilla E naturale Quando avviene Capito Non è che sto a pensare Che devo fare Che devo dire Cioè agisco Spontaneamente Se magari Ti metti a fare I reel De cinema Saranno goffi Perché non è il tuo Ovvio Ovvio Saresti critico Dov'analizzare un film È ovvio Che non sarei in grado Già Luca Vedo che però Là si magna tutto E non critica niente È buonissimo Ogni cosa che gli portano Gamberoni Capiscono che Gli piacciono i gamberoni Fanno solo gamberoni Fate qui a farlo mangiare Poi arriva La cosa Che vuoi No no Quello sì Deve fare il giudice Prima magna tutto È vero È il sabbacu Del cibo Devevi cercare Sì più da porso stretto Ecco Più cattivo Con calma Invece Lo vedrete Victor Se lo magna E deve dire qualcosa Ma assaporalo Non lo fa Sente l'ansia Da prestazione Io la comprendo È quell'ansia Che c'hanno alcune persone Anch'io Di avere la risposta Pronta alle cose Però a volte Relax Anche di annientare Il silenzio Lo capisco Io so quello So come lui Infatti lui parla A macchinetta Eh sì Che è un pregio Per molte cose Assolutamente Gianluca Trattino è quello Che si prende più Invece ai suoi tempi Cioè se mette Mangia Non gli interessa Se si sente solo Il ruminare Vero vero Perché sono cose diverse Come dici tu Sono obiettivi diversi Alla fine Sensi diversi Sì Un profumo Che è illegale Scusate Ve la devo mostrare Mamma mia Cioè ma guardate Che bella Glass Glassatissima Ragazzi È Che tue fretta No no Ma guardate Come avuto A distanza Glassatissima Non gli piace il cibo Pare che è un alieno Non ho mai visto Il cibo In vita sua Glassatissima Poi c'è anche il commento Di Ray The Honest Comunque Come ex moderatore Poi buttato fuori Da Victor Giustamente Fatto bene Sì sì Buttato fuori A calci in culo Da Victor Greve Grevissimo Giustamente Andiamo al taglio Dammi un pezzo Dammi un pezzo Dammi un pezzo Dammi un pezzo Dammi subito un pezzo Capito ma è mia Tu dammi un pezzo Vabbè ho capito No No il gatto Tieni Tieni Aspetta 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 Assaggiamo Non l'hai assaporata ancora Neanche il porco Non è arrivata neanche la papilla gustativa Oddio Oddio Bellissimo Bellissimo Ma poi bianco e nero Tipo A parte che non è proprio bianco e nero Abbassato Sì Sì è desaturato Non è bianco e nero ancora Bellissimo Cioè sembra Ma che schifo sto mangiando Ma che cazzo c'ho in bocca Porco In realtà però no Ci vuole dare l'idea che è buonissimo Ma neanche riesce Ma perché desaturando però Ma tu dici il bianco e nero L'occhio della madre Infatti sembra una cosa brutta Non è proprio bianco e nero se ci fai caso Il bianco e nero è il codice su youtube Quando succede una cosa Sì ma è solo desaturato al massimo Non è proprio bianco e nero se ci fai caso È desaturato al 75% Però in teoria Cioè a me non è che trasmette Sensazioni positive questo frame Eh capito Pare disperato Sembra al contrario Esatto Oddio Ma l'ha mezzo sputato Oddio Non sei capace È bellissimo È bellissimo È incredibile E chi reagirebbe così Cioè t'hanno fatto male È tutta morbidina Con i canditi Che pistacchia Io non capisco le persone Che non amano i canditi Sono buoni Non si può Non si può È incredibile Salve per questa colomba Mi sa anche il gatto Che si sta avvicinando Sospettosamente Se potete Prendetela ragazzi Perché è veramente Oltre Mamma mia Grazie Gigno Codichessa Cosa senti Quando la mangi Vuole sapere È bellissimo Io provo tante emozioni Troppe emozioni Forse anche dove Non dovrei Sto provando troppe emozioni Dinanzi No Ma poi È un amico nostro Lo sa che Scherziamo Poi vabbè Alcune critiche Sono reali Però Ormai Sì ma Ma riascoltiamolo tutto Ragazzi Tutto Tutto da capo Vai Mettiamo un piccolo like Che non costa nulla Già arrivando È una cosa Che non vuole fare Esatto Cioè È palesemente Il sospiro Quello dello youtuber Che non vuole fare il video Io questa recensione Non la volevo fare E poi lo fa in modo Frettoloso Lui Il maestro Lo ha fatto di nuovo Mi è arrivata Grazie Luca La colomba Di Gigno Massani E io sarei a dieta Ma facciamo Uno strappino Alla regola E vediamo Com'è Ma credo sia Un po' diverso Eccolo Victor Ciao Victor No c'è l'hashtag Gifted Ottima recensione Vic Sta qua rega Gifted Eh no perché Stanno a did no Victor Può essere criticato Su tutto Ma non sull'onestà Bella Amelia Torso Qua c'è il libertino Eh sì Sì Questa mi sa che È al pistacchio Perché la vedo La vedo verdina Come potete vedere Apriamola Ragazzi ma fa un profumo Che è illegale Scusate Ve la devo mostrare Mamma mia La seconda visione Allora L'olfatto Viene coperto In qualche modo Illegale Illegale Dammi un pazzo Dammi subito un pazzo Capito ma è mia Tu dammi un pazzo E vabbè ho capito No No il gatto Geras Aspetta 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 Approvata Spontanea Nel chill Ci sta Non è possibile Oddio Ha canditi Ma è tutta morbidina Con i canditi Che pistacchio Cioè ma ce l'hai tu in bocca No Lo dovresti sapere tu Se c'hai canditi No Vabbè Non Non mi scusco le persone Che non amano i canditi Sono buoni No No Fanno cacare i canditi No In realtà mi piacciono No sono buoni Fanno cacare i canditi Però devono essere pochi Devono essere proprio pochi Sì Pieno dei canditi No pieno no E amo anche l'uvetta Ragazzi L'uvetta mi piace di più Candito Mi piace tutte e due Deve essere proprio raro Capito Cioè ogni tot C'è quel candidino Che ti dà la puncicata Uvetta superiore a candito Sì Uvetta sì Vabbè ma l'uvetta Sì È buona anche di suo Il candito così Io a volte facevo Certe porcate Con l'uvetta Sì che ti dico Fermate Tipo bicchiere Svuoto uvetta Dentro il bicchiere Latte E poi tipo Non so che cazzo Ci mettevo marmellata Una roba del genere Mangiava cucchiai Totale Zì buonissimo Buonissimo Candito È tosto Perché Il candito è una bella Batosta Il candito Forse dirò una banalità Però conviene Quello di qualità Cioè nel senso Che se devi prendere Un pandò Cioè preferisco Se devo spendere poco Prendo una cosa Senza robe dentro Se devo Magari prendere una cosa De qualità C'è sta Con l'uvetta C'è sta C'è sta Vabbè perché Non di qualità Alla fine È solo zucchero I canditi Quelli scrausi Fanno schifo Ma anche l'uvetta L'uvetta scrausa Fa schifo Non so se l'avete mai mangiato In quelle bustine Orribili Che hanno ancora Magari tipo Il gambo Attaccato Sì 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 C'è stanno dei pezzetti Simone vergognati I canditi Sono la vita Beh tu Intanto accorgiti Che ci sono Quando ce l'hai in bocca Ma poi che cazzo Scrive pure Mister Dunque Se c'è ad altri gusti La prenderei volentieri Ma al pistacchio Mai nella vita Perché il pistacchio È un sapore orrendo A parte il fatto Che Mister Dunque Penso non abbia mai fatto Un acquisto online In vita sua Palese cazzata Cioè Veramente A parte due sub in croce Che hai fatto al Cerbero In sette anni Tipo Quale acquisto online Hai fatto te Secondo me mai Palese A parte che non arriva Amazon Do cazzo sta lui Non arriva nei corrieri Sta tipo in cima Al mondo Il pistacchio Ha un sapore orrendo Pensa solo lui In tutto il mondo Sì Poi quando solo lui no Sono d'accordo con Franchino Che è un po' abusato Ultimamente In effetti Parla per te Ha detto Stacchio Stapera Prendo anche DVD online Ah ok Ah dalla scusa DVD Grazie Quelli che si vedono In 480p Proprio Quelli del 2002 Io ringrazio ancora Il Gino Massari Per questa colomba Ringrazio anche lei Mi sa anche il gatto Che si sta avvicinando Sospettosamente Se potete Prendetela ragazzi Perché è veramente Oltre Mamma mia Grazie Gino Grazie Ma poi Ha fatto Il segno Dell'aiuto Ha fatto Grazie Gino Grazie Salvatemi Come se non è Veramente Grazie Pure con un po' Di aggressivo Grazie Grazie Non glieli manda più Il Gino Non so come dirtelo Vittor Che l'ha fatto pure così Secondo me La verità è questa Questi video sono una tortura Per lui Ma ha il buon cuore E non riesce a dirglielo Il Gino E siamo gli unici Ad averlo capito In tutto il mondo Sì Soffre E adesso L'ha fatto anche Proprio col gesto Però è una persona Talmente educata Che non può rifiutare Non può rifiutare Un regalo In questo caso Cioè Dice Ok è gifted Ce faccio il video Però non ne posso più Quindi non me li mandare Esatto Non si guarda Il culo Eh sì Eh sì Mandateceli a noi Che li facciamo recensire Darduga Eh certo Speriresti 100 euro Oppure uscire con me Mi piace questo TikTok 100 euro Ah vorresti 100 euro D'accordo Mi mandi Liban poi su Instagram I don't know I can hang out with you Ah ok Let's go First one The first one No one C'è sta Grande Allora Allora Sono qui con Dario Moccia Io raga vi giuro su Dio Che pensavo fossi un cartonato Quando l'ho visto Te lo giuro Io pure Sembra un ostaggio Lo giuro su mia madre È un ostaggio Pensavo fosse un cartonato Un mord Alese contro Sì Ma sembrava tipo Il cartonato che abbiamo noi De Renato Zero De Dario Moccia Cioè pensavo fosse una gag Perché il Croari è anche uno Molto simpatico No L'uomo delle gag Che sta sul pezzo No Sono qua con Dario Moccia E non è Dario Moccia In realtà è Dario Moccia Classic Croari Che è successo a Dario? Mario Doccia Siamo fatti caffettino Carichissimi Tra pochissimo Carichissimi Diritto di influencer Diritto di content creator Dario Grandi Vediamo L'attenzione Non sembra L'attenzione è altissima In realtà Questa storia Questa roba È per testare il microfono E basta Vabbè Ciao 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 Carichissimi Due persone su due piani Dimensionali Completamente differenti Esatto Allora Ragazzi Vorrei introdurvi No lui No per te Io dico perché Non ha aderito alla storia Era un po' freddo Quello Grazie 69 Perché tu capisci Che cosa è successo Probabilmente L'ha messo in mezzo Non sta aspettando Durante il caffè poi Capito Che stai là Dici vabbè Dai Fiamo sta cosa Allora Dobbiamo parlare di Yorit Prima però Ragazzi miei Grazie 17 Voglio presentarvi Un nuovo personaggio Personaggio molto interessante Che mi è stato segnalato Da uno di voi Questo caro Giuseppe Giuseppe È un pastore Ma anche Un pastore È un pastore Ma ha Anche Dei tratti Del guru Va peccante Va peccante Va peccante Niente Impossibile Utilizzare Meta da qui Però ok Che fa Che fa il pastore Che è le pecore No in realtà Le pecore del signore Le pecorelle Youth pastor Si intende Il pastore È il prete Dei protestanti Esatto Allenatore E spesso sono anche Giovini Amo ispirarti Alla grandezza Spingerti a sognare E avvicinarti Al cielo Maiuscolo Pensavo al Youth pastor Gen Z Coach Ascolta il podcast L'officina Dei sogni È fino a qua Uno che parla De Gesù A parte che Non c'è scritto Gesù Però Uno che parla Di Dio Però posso dire Una cosa Non cozza un po' Il pastore Che si autodefinisce Coach Di una generazione No Dici? Finora no Perché è quello Che dovrebbe fare Un pastore Dovrebbe Essere una sorta Di esempio Non dovrebbe anche Distruggere un po' L'ego Il proprio ego Metterlo da parte Sì Vediamo Non è che è una Una scritta No no Io perché ho visto Già i contenuti Allora Allora Io non ho visto niente Let's go No no Stavo a pensare ieri Tipo sulla striscia De cazzo Secondo me Quei coglioni Sala sono scelta Fondamentalmente La loro vita Giusto? Dico bene Avrebbero potuto Fare qualcosa Sì ma pure Quei bambini Che hanno votato A massa Capito A cinque anni Non l'avrebbero votato Potevano non votarla Cioè Bravo È vero Totale responsabilità Della tua vita Totale In pochi mesi Farai quello Che avresti fatto In dieci anni Forse Che cosa significa? Significa Credere Che tu Sei l'unico Responsabile Della vita Che stai facendo Punto Conversazione finita Ma King Parte il fatto che Un nonno proprio Un nonnino È quello che cercavo Di dirvi prima Allora Lui mischia Dei concetti Che sono Da classico guru Ad esempio Le tempistiche Io non ho mai sentito dire Che ne so Ad un prete Ad una figura religiosa In dieci mesi In otto mesi In quattro settimane Perché Teoricamente Il percorso È individuale Il percorso Verso Dio Il percorso Verso una spiritualità Dovresti aver compreso Che il tempo Non esiste Tutte queste cose Dieci mesi Che è la scadenza È la classica tecnica De marketing Alla big luca Capito? In dieci mesi Diventerai milionario Sì Mi fa strano Che giochi Con rimpianto Comunque Se lui sa Quello che sta facendo È più grave Ovviamente Di uno che spara Cazzate E basta Perché quello che ha detto All'inizio Avresti dovuto fare Quella Avresti dovuto fare Quell'altro È un discorso Che genera Ovviamente Vuole generare Rimorso Nelle persone Che poi vanno A seguirlo Per dirgli Illuminami tu Almeno adesso Mi aiuti te Ma non è Non è una cosa Che condivido Io personalmente A livello spirituale Ecco Poi invece Il discorso Che Tu sei responsabile Solo tu Della tua vita Di come si colora La tua vita Posso pure capire Sì L'avevamo pure fatto Sì L'avevamo pure fatto Un discorso simile Nel senso Che uno poi Dovrebbe cercare Di fare il possibile Mettendosi In una condizione mentale Cioè devi capire Che tu hai molta Propositiva Certo Hai molta Hai più potere Dell'esterno Devi capire questo Questo è vero Questo è vero Però Ovviamente Lui fa tutto Quanto In toni assolutistici E soprattutto Veramente in toni Da marketing Puro Perché vuole vendere Fondamentalmente Anche dire basta Questione chiusa Non è molto cristiano Esatto Insomma Cioè anche Il dialogo è buono Il proselitismo Ci sta Vuole avere ragione lui E non parte Da una base di umiltà Che anche quella Dovrebbe essere Fondamentale In un pastore Quello che ti dicevo Perché Eh ma devo vedere un attimo Sì sì no no Infatti Per introdurvelo Cioè alla fine Io penso anche che Uno possa essere Una figura di riferimento Lui può anche essere Un pastore Adesso questo non lo so Un prete Alla fine Cosa fa Dovrebbe riuscire A trasmetterti Dei concetti Che sono Superiori a lui No Però è il veicolo Sì Ok In teoria dovrebbe essere questo Bene Un veicolo Quindi che non dovrebbe Avere un'identità Superiore Alle persone Verso cui si rivolge No Anzi dovrebbe cercare Di ascoltarle Capendo i tempi Di quelle persone E capendo il linguaggio Giusto da adottare Invece lui Sembra No Entra Capito In In questa mia In questo mio percorso Segui quello che ti dico Fallo Perché io sono Superiore a te Comunque Vediamo altro Nella Bibbia C'è una frase Che viene ripetuta 365 volte Sai qual è? Non avere paura Nella Bibbia Finisce così Ah beh allora Che significa Non avere paura Alcuno risponderebbe Soldi e paura Mai avuti Pastore Spiegami Che cos'è la paura Per te Come faccio A esorcizzare La paura Che provo ogni giorno Quando mi sveglio Al mattino Qual è Il ruolo Anche della paura Nella vita Di un essere umano Che cazzo significa Elimina la paura Nulla Non significa niente Soprattutto con Hans Zimmer sotto Interstellar Ciava Non so più fa Questo Questo è Un evento Tipo il Cerbero Party Vedi Pure X Culture Ok Quindi è un convegno Su Diciamo Forse è una chiesa Il target Che taglio Cerbero Party Quello Osanna è Ma sono quasi tutti giovani Guarda che Se scopa La Se scopa E' brutto Il nome E' il signore E' felicità Dovuta dal fatto Che sta in una Comunità Ah ecco perché Pastore Ho capito I pastori possono Collegato alle pecore Collegato alle pecorine Soprattutto La pecorina Facciamo dei sogni Vediamo un po' Altri contenuti Come dare la svolta La tutta Che significa Cosa promette Che se vivi Per l'approvazione Degli altri Morirai Per il loro rifiuto Ricordati Questo Ma che cazzo E dice E dice Leggi la caption Queste frasi Da bacio Perugina Questo è il momento Giusto per iniziare Però hai detto Invece che prima C'erano tot mesi Vabbè Mai paura Di iniziare Ecco 40 cose Che ho imparato Dopo 170 Del podcast L'officina dei sogni E quasi 300.000 Download Se hai un sogno Ah beh Giustamente Dobbiamo vedere Poi il controllo Questo è un modo Per vantarsi Tutto quello Che ha fatto Vabbè Un piccolo freebooting Sentissi apprezzato Mi ricorda Tutte le donne Tagga un'amica Condividono nelle storie E manda il link Ad altre donne L'8 marzo Scommetto No Cinque giorni fa Ah sì 8 marzo Hashtag Grazie Grazie veramente Ho detto parole Che toccano il cuore Dio ti benedica Dio ti benedica Dio ti benedica Signore Ti sta usando forte Dio ti benedica Ti sta usando forte Ti sta usando Vabbè No che brutta cosa Non sei bella Tu non ci credere Scegli bene Le parole che ti dici Scegli il tono Scegli il colore Scegli la forma E sussurrale Perché tu non hai bisogno Che ti si urli Non avere paura Di essere te stessa Non avere paura Di mostrare Le tue imperfezioni Ricordati Marco Francesco Solo è starasti di bello Esattamente come sei Tu E se un giorno ti diranno Che non ce la farai Tu non ci credere Perché ti diranno Tante cose Proveranno a fermarti A distrarti A spaventarti Ma chi? I goblin E se un giorno Un uomo ti ferirà il cuore Non prendertela con te stessa Non permettere a nessuno Di soffocare la tua felicità Non ascoltare Chi ti mente E chi ti vuole manipolare Trova sempre il coraggio Di rialzarti Anche quando hai il cuore In mille pezzi Cerca di tutti Afferri Quindi fate i divorzi Cioè Aiuta queste donne A divorziare A mio avviso Ma queste frasi fatte Sempre su Ma mamma mia Ma stavo a cercare una cosa Da di perché Non c'è niente Mamma mia Parla di femminicidi Che ci sono stati E sto una fracca Tu sei bella Che bugiarda ragazzi Oggi è stato veramente assurdo Ho corso per più di tre ore E ho dovuto Madonna Bestia Porca troia Per tre ore Ho corso per più di tre ore Vabbè Highlander Porca troia Dannata King Lottare continuamente Con la mia mente Che continuava a ripetermi Bugia Non sei bravo Ma chi ti credi di essere Ma pensi di essere un runner Hai visto che le gambe ti fanno male Troppo tempo Non ce la fai Hai sentito quel dolore Molla Lascia perdere E continuamente Dovevo zittire questi pensieri Greve Cioè 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 C'ha la doppia personalità Ma Non è che Le gambe ti fanno male Non è che devo zittire questo pensiero È una risposta normale dell'organismo Sì Cioè Quelle sono Delle forme di protezione Vabbè però È vero che Se vuoi Si Sbigne Però non è un pensiero Cioè Le gambe che ti fanno male Non è un pensiero Magari sono Sono una bippa È un pensiero La mente prende la gamba che ti fa male E ti dice La gamba ti fa male Quindi devi smettere Certo Magari non devi smettere Domino nel cervello Vabbè no ma ci sta Per certe cose Sono meccanismi ovviamente Di tutela Dell'organismo Perché Giustamente Ti dice Te fa male Significa che sei abbastanza Nelato Poi magari tu forzi un pochino Piano piano ti alleni Da pigro cronico Pensare che sia tutela A volte è una scusa No Ovvio però Che la usi per te stesso come scusa Che non fa un cazzo Certo Certo Ma infatti Ripeto Il pensiero può essere Non me va Perché Trovi la scusa Beh ma me va Perché mi fa un po' male il polso No devo riposare Però Cioè Ci sta Perché Se uno fosse completamente fatto De morfina Tutto il tempo Non sentirebbe niente È problematico pure per quello Perché tu non capteresti i segnali Poi devi imparare a dividerli Cioè questo è un segnale che Boh Se vado avanti così Magari mi faccio male sul serio Perché poi Manca giusto Andando ad oltranza Se il corpo ti da dei segnali C'è un motivo Sì sì E qua invece devo forzare Certo Come in palestra Magari ti fa male Tu fai quelle due ripetizioni in più Però se ogni volta Arrivi a cedimento Poi ti fa male sul serio Questo è il punto Però non è un pensiero Quello che dico io Cioè il pensiero può essere Sì sono una pippa È quello Quello sì Oppure sono stanco Non me va Sono pigro Stanno Quello è il pensiero Io faccio niente Quelli sono pensieri Certo Siamo a affrontare Durante la vita di tutti i giorni Una volta una persona mi ha detto Ricordati Che la mente Mente Quanto È vero Ricordati Che tu puoi fare Molto Molto Di più Di quello che stai pensando O stai immaginando Il peso pesa Non metterti dei limiti Vai Oltre Osa Esci dalla zona di comfort E prepari Ma poi tre ore Tre ore Non c'ha una goccia di sudore Hai ragione Ma sì Ma Cioè Tre ore È Ironman Veramente È abituato a farne otto È capito No regà È replicante È una belva Cioè regà Tre ore A meravigliarti È freschissimo Come una rosa Che stava a correre in moto Però hai capito Ah Ah Ce la posso fare Ah ecco l'ha corso No comunque vabbè Che la mente mente è vero È una banalità atroce Perché la gente non sa Cosa significa Ma non lo puoi spiegare Dicendo solo la mente mente Perché uno ti fa Ok E quindi Quindi dura cinque ore La risposta E non Nessuno le ha Lui non la sa Quindi andiamo avanti No lui non la sa neanche Ha zittito il sudore Pure quella è una risposta Dell'organismo Cioè Si alza troppo la temperatura E il corpo giustamente sudando Cerca di abbassarlo Zitto 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 Io non sto sudando Torna dentro Io non sto sudando La mia temperatura corporea Non è veramente così alta Molti pregano e dicono Dio illumini i miei amici La mia famiglia I miei compagni di scuola Di università E Dio sta cercando di dirti Per brillare Ho bisogno di lampade Da riempire con il mio olio Nel Vangelo di Giovanni C'è scritto che Giovanni Battista Era la lampada ardente E splendente Prima le lampade Non si attaccavano alla corrente Ma erano di terracotta Che conteneva olio E avevano uno stoppino Attenzione Giovanni Era una lampada Ma non era la luce Dio sta cercando qualcosa Da ungere E riempire con il suo olio E Dio Non sta chiedendo a te Di brillare Ma ti sta chiedendo Di prestargli la tua vita Per far brillare lui L'unzione Ci aiuta a portare luce nel buio Magari vai nella scuola più buia E non sei il migliore evangelista del mondo Ma è l'unzione Che farà la differenza Un po' di vasellina E risolvi il problema E' un tè Ben illuminato Molti pregano E' un discorso metaforico Per dire che Ovviamente La luce Cioè il benessere Deve arrivare Da te stesso Sì sono tutte Concetti Mega Astratti Che ormai Se li sentiamo Ci fanno cringiare Deve andare Unto A scuola Abbiamo chiamato Unto Che cazzo Deve imparare Ma essendo pure lui molto giovane Cioè devi imparare a tradurlo Quel tipo di linguaggio Cioè come vi dicevo l'altro giorno Ci sono anche predi O figure Religiose Magari anche grandi D'età O anche persone Non religiose Come tuo papà Però che hanno una cultura religiosa Cioè non religiosa Nel senso Non è l'esercizio Delle loro funzioni Però che riescono A tradurre Un linguaggio arcaico In qualcosa di moderno E di concreto Anche Fondamentale Sennò rimane Una roba in carta pecorita Invece no Un metafore Che hanno scritto Uomini Due mila anni fa E appunto Devi cercare Di prendere Delle cose importanti E utilizzarle Questo è giovanissimo C'era Quanti anni c'era 25 Poi posso dire Che sto sorriso All'aciuchino Mi dà un fastidio E il sorriso gimmick Quello che può E dovrebbe fare Un prete Un pastore Che gli piacciono i social Non c'è nulla di male Nel tentare di usare L'avanzamento Tecnologico E sociale Per far arrivare Il tuo messaggio A più persone Però qua Effettivamente Si evince O almeno Io ho questa sensazione Che è più per lui stesso Che non c'è un reale Una reale voglia Di condividere Magari Degli aiuti reali Ma solo di dire Queste frasi Di circostanze E non andare veramente Nel merito Perché finora Ho sentito solo Frasi fatte Frasi da Baci Perugina Frasi che lo fanno Anche Palesi cazzate Che lo fanno apparire Come un run Come uno Che ha fatto Appena Tre ore di corsa Che non è vero Palesi è bugia Proprio Lo sta facendo Per Lui Lui penso Che saprà Che cos'è l'ego Come hai detto tu All'inizio Check your ego Check your ego Ma infatti Quello che rappresenta È compromesso Perché nel senso Ha un ego Smisurato Sembra Sembra Mettiamola così Mente È quello È quello che ti dicevo È nel senso Ma pure tu Non hai corso tre ore Palesemente Non hai corso tre ore Dai Ma che pastore Perché devi dire Che corso tre ore Per il tuo ego Per apparire Per fare cosa E ha anche lui detto Nel video stesso Se poi poteva andare Un percazzo Che la sua mente Gli dice Non sono un runner Quindi probabilmente Che cosa avrà fatto Mo dico sta cosa Esorcizzandola così Poi la gente Almeno pensa Dicendo che ho corso tre ore Che lo suono Convinco la gente Convinco me stesso Chi è che ha appena detto Cinque minuti fa Se ti pesa Se sei Se hai troppo peso Al giudizio Altrui morirai Per le loro cose Tu Porca Quanta ipocrisia Quante stronzate Oddio Ci dovrebbe proprio Mente a se stesso Ma lo sa Questo è bellissimo Cinque modi In cui coinvolgo Dio Nei miei allenamenti E' bellissimo Perché ti dovete Fa da spotter Ma non fai La manca piana Che sta dietro Dio Con una mano sola Proprio Mentre parte Tu pizza Da cinque Tipo Gli fai Gli fai capito Bella god Che dichi Metti marti Cinque chili Pensai che c'era Svi griffi Oppure te spinge Capito Che stai a correre No no Devi arrivare a tre ore King Vai vai Grazie Dio E lo spinge E lo spinge E' bellissimo Miki con Rocky Esatto Dio il personal trainer E il suo Miki Ecco Cinque modi In cui coinvolgo Dio nei miei allenamenti E nello sport Numero uno Però scusate Posso dire una cosa Grazie Palese doping Eh beh Non ho capito Scusami E poi lo involge Dio E il testosterone Dei bogbasi Dio no Cioè più doping Dio che c'è sta Beh Dio Direttamente Dio È greve Come aiutante Le bestie Ecco come lo Involgo Dio Nei miei allenamenti Marco Aiuta E scuota Parca Dio E lì effettivamente Lo coinvolge E ti aiuta pure Per molti aiuta Prego Mentre inizio a correre Chiedo a Dio Di proteggere il mio corpo E darmi saggezza Per fare la cosa giusta E soprattutto Non esagerare Numero due Lo ringrazio Gli sono davvero grato Perché ho la possibilità Di fare quello che faccio Mentre corro Nella mia mente Inizio a ringraziare Dio Perché mi sta dando Quest'opportunità Incredibile Numero tre Mi prendo cura Del mio corpo La Bibbia dice Che il nostro corpo È il tempio Dello Spirito Santo E facendo sport O un po' di movimento Te ne stai Prendendo cura Quarto modo Cerco di essere Un esempio Anche come mi vesto Se magari uso Dei leggings Per il freddo Indosso anche Un pantaloncino Sopra Ma che vuol dire Ma in che senso Ma chi te guarda Chi ti guarda Che stai tipo Nella boscaglia Mamma mia Ecocentrico Mamma mia Sei da narcisista Pensami Voglio ripertare il culetto Ma poi c'è capito Se metto i leggings Ma fate la corsetta tua In mezzo a boscaglia Non rompe i coglioni Ma poi scusami Corri Non è che la gente Capito Sta lì Ma guarda Stai in un posto Sperduto dal mondo Io lo vedo Si crea la fila Capito Hai visto Quando uno corre C'ha altre 20 persone Che corrono Cosa dovrebbero pensare E dietro a lui Cosa dovrebbero pensare Oti io I leggings Di quel ragazzo Tremendi Non dà un buon esempio Evitare che si vedano forme Che meglio Rimangano Nascoste Ecco Per esempio E questo vale Anche in palestra O in ufficio O in chiesa Numero 5 O no Come se fosse la stessa cosa Tra l'altro Cioè Il pudore Del vestiario In chiesa Deve essere lo stesso De quello Mentre fai sport No Casomai si vedessero Delle forme Del certo tipo Delle forme Ma vaffanculo Sexy plumber Sì esatto Un uro Oddio Oddio Perché Sfrutto il potenziale Che lui ha messo Nella mia vita Nello sport E uno dei tanti E stanno a sparare Amo quei versi Che dicono Qualsiasi cosa facciate Ringraziatelo Fatela per Dio E per dare gloria a lui Ma lo stavo Fa una partita a D&D E per qualsiasi altra Della nostra vita Ho visto un altro titolo Bello Questo sarebbe forte A D&D Marco O a Lubus Fa il chierico Lui proprio Eh beh certo Roba sua Te evoca tutta roba Sì Te dà la forza Te evoca Sesso, pornografia E masturbazione Ragazzi Eh beh dai Questo dobbiamo vederlo Ultimo dai Ultimo poi vediamo Yorit Sesso, pornografia, masturbazione Sembra un po' Conoscitore Sesso, pornografia, masturbazione De fatto Oggi questo video Conoscitore italiano Che poi inizia come il titolo Per quello pure Mi ha fatto pensare Vero Tutto inizia da una decisione Essere Differente Essere normali oggi è passato di moda Vivere in purezza Oggi Non è assolutamente È la classica frase Alla vannacci È la classica frase Da chi vuole essere differente Non ha alcun cazzo di senso Perché tu stai dicendo Che c'è una norma Che devia dalla norma E quindi tu stai a falba Stia incontrato Ma poi il concetto di normalità Non esiste il normale Qual è il concetto di normalità Nel cristianesimo Nella Bibbia Nei Vangeli Il concetto stesso di normalità Caro prete Che ti devo insegnare Che cos'è Dio Probabilmente Che cos'è la vita Cos'è l'universo Che devo insegnare a sto pastorello Il concetto stesso di dire Le persone normali È discriminante È giudicante Implica che ci siano Delle persone anormali Che tu lo sai Che non è così no Tutte pecorelle uguali Sotto il manto Del regno dei cieli No Ste cazzate Metaforiche Non voglio di un cazzo Che li portare dietro Da duemila anni Per di cazzate E andava pure bene Finché eravate dei vecchi Bavosi Che stavano là Che facevano i cazzi loro Vita Morte e miracoli Vissuta in convento Poi crepano Devono fare I splendidi Con la crestina Sui social Manca di Dai un buon messaggio Esatto Perché è diretto A te che sembra Che devi essere fico E sei un pastore Questa cosa è inammissibile Mi dispiace Ma sì ma anche Il fatto di dover Sottolineare Il suo outfit De prima Ma dai Sono vanità C'è sempre quella cosa Velata un po' Da son meglio io L'ultima cosa Che rappresenterebbe Quello si vende Un pastore Cioè è molto semplice È la stessa Tecnica che utilizza Luca Valori di turno È uguale Che ti dice La frasetta motivazionale Sul guadagno E qua ti dice Su Dio Capito È uguale Cioè è la stessa roba Cioè la comunicazione È identica Quelli citano A Thatcher Questo si citano A Giovanni Battista Quale? Sempre a città Gente morta e sepolta Che manco intendeva Quello probabilmente Per vendere qualcosa A te In molti casi Te stesso Tra l'altro mi fa rite No? Sei tra i 14 E i 29 anni Non puoi perderti Questo evento Il Purex Dai 14 anni Madonna Parleremo di Sessualità Relazioni Cioè Però farite Purex Questo farite Purex col diamante Che invece di Purex 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 Però Tra l'altro Io dico Vabbè Sicuramente Con autorizzazione Genitoriale Consenso Mi sembra al minimo Altrimenti L'avrebbero già arrestati Però quello che dico Ma ci sono Dei sessuologi Eh infatti Perché Parlare ad un 14enne Di sessualità Relazioni Dipendenze sessuali Altri temi hot Mi auguro che Cioè Lo facciano Delle figure specializzate Dipendenze sessuali Guarda Psicologi anche Evito di insultarlo Non è un tema hot Testina Tra l'altro È un tema Molto greve Di cui Cioè Di malattia Mentale Quindi De patologie Comunque servono Appunto Degli specialisti Psicologi Eh certo Sessuologi Sicuramente Sicuramente Ragazzi È normale La differenza Di tanti E la mancanza Di buonsenso Sono le cose Che fare Che fare Che fare solamente Con L'ubbidienza Al di là Di tutto Avevamo notato In effetti Il target Quindi Sopra i 29 anni Non c'è Prenda Questo è ottimo Perché Sono tutti giovani Ottimo Da un punto di vista Sessuale Però Seriamente Dico Adesso Io non conosco La struttura Di questo Purex Dei Però Io penso Che Sia molto Problematico Affrontare Determinati Temi Soprattutto Con ragazzi Giovanissimi Senza Figure Professionali Di un certo Tipo E Adesso io Non lo so Informiamoci Non lo so Però mi sembra Anche Sì sì Però mi sembra Anche molto Strano Che Loro Diciamo Approvino Un certo Tipo Di metodo Scientifico Su queste Tematiche No Mi sembra Molto strano Che facciano Parlare Realmente Un sessuologo Perché A quel punto La componente Della morale E del valore Verrebbe meno E soprattutto Io capisco Anche il tema Legato Magari Alla dipendenza Al peccato Anche qui Evoluto Però nella Contemporaneità Cioè Non il peccato Sanno pure Conti la tua Agi Questi Qua mi sa Che tocca Fangate Però Scelte Qua c'è una Quantità Di materiale Mi sa Regà No No Sono giunto Ad una Conclusione Grazie Dottor Che cos'è Tato No Quando l'amore Lascia il segno No È tipo Purex Capito Sono dei titoli Forti No Quello che voglio dire È che Prima Prima Giustamente Simone Parlava di Traduzione No La contemporaneità Allora Il concetto Di peccato Ovviamente Non può essere lo stesso Presente Nell'antico testamento Per gli uomini Di quei tempi No L'abbiamo detto più volte Era più che altro Una tutela Per le malattie Sessualmente Trasmissibili No Era una misura Contenitiva Il concetto Di peccato Sto parlando anche Con una mia amica Che è credente Una mia amica Che crede Lei ovviamente Non è una puritana Cioè non è una Persona che ha rinunciato Al sesso Prima del matrimonio Semplicemente Lei Ha tradotto Quel concetto Di peccato Con l'abuso Ma vale per molte cose Non solo per la componente Sessuale Cioè Lasciarsi troppo andare Alle dipendenze All'ozio Quello è il peccato Che è un peccato Che fai verso te stesso Sì È anche il concetto Che accennava lui In maniera orribile Che il nostro corpo È un tempio Sono delle cose Che hanno Ovviamente un senso E puoi tradurre Nella realtà Cioè Impara ad amare te stesso Anche Quello Diciamo Che Che ti permette Di Svolgere le tue funzioni Del tuo organismo Quindi Prenditi cura di te stesso Non mangiare solo merda Cerca di allenarti Cioè Sono cose positive Che ti rendono migliore Ma non perché Dio ti giudica E ti picchia Se ti fai la scopata in più Quello che I cristiani E i religiosi Intendono come Dio Che devi amare Questa è proprio La misconception Principale È l'equivoco Che sembra piccolo Ma in realtà È alla base E quindi Contagia un po' tutto Non esiste Dio Devi amare La vita Che ti anima Quindi la tua anima Se tu riesci E questa è una cosa Che si sa da millenni Riesci psicologicamente Con l'attenzione Che tu riesci a spostare Ripeto Io dico sempre Io riesco a concentrarmi Su questa mano Su quest'altra mano No? Quindi riesco a spostare La mia attenzione Se tu riesci a spostare L'attenzione Sull'amore Che tutti hanno dentro Che si prova Per se stessi Ma nel senso Non per te Ciò che sei Ciò che rappresenti A livello di persona Sono il dottore Il primario di medicina No per te Organismo Se riesci a A stare in contatto Più con quello A portare la tua Attenzione su quello Non commetterai peccato Perché agirai per amore Non per egoismo Amore per te stesso E per il prossimo Che capirai Che è la stessa cosa Certo Ma infatti pure Sono riuscito a dirlo In due minuti Ma ci vorrebbero Due anni Due Cioè capito Non è una cosa Che dici Ah ok Passiamo al prossimo Argomento Porca troia Ma il concetto di Dio E di dogma Sono fuorvianti Perché pure in chat Dicevano Vabbè però giustamente Non è contraddittorio Andare contro Il dogmatismo E infatti Quante volte abbiamo detto Secondo noi Anche La chiesa Dovrebbe crollare Come istituzione Perché Perché nel momento In cui arrivi A questa conclusione Cioè Io non devo Accontentare Un Dio superiore Non è che Dio Mi giudica E mi vede Mentre mi faccio Una pippetta Ma è Un Rendersi conto Che hai questo Chiamiamolo dono Come vuoi Hai una vita Ok E l'obiettivo È cercare di Vivertela al meglio No Renderti conto Essere grato Ok A quello che sei E quello che hai E cercare di Vivere serenamente Non è che Dio È più contento Se tu vive Se mai esistesse un Dio Se ne fotterebbe Ovviamente Non c'è E anche tutti i dogmi Dio è quello che fa Muovere l'universo Quello che fa sì Che ci sia il vento Le onde Che ci sia la vita Che ci sia un moto Perpetuo Che sta Che va Ma non è che sta Sotto te Capito Capito Valente d'ingrandimento Davide Marra Se sta a fare Cioè questo è il problema Però ovviamente Perché serviva Come il dogma Quello che vi dicevo Sul peccato E sull'evoluzione È certo che È per questo che infatti Alcuni Papi Secondo me Hanno fatto bene Dal punto di vista Della chiesa Ma male Dal punto di vista Umano Cioè Ratzinger Ha fatto giustamente L'interesse della chiesa Cioè Più dogmatico Ma affinché La chiesa Rimanga Quel tipo Di istituzione Cioè Un'istituzione Politica Che garantisce Il dogmatismo E quindi Guida i fedeli Devi essere come Ratzinger Cioè devi essere dogmatico Perché altrimenti La soluzione finale Della chiesa Sarebbe l'estinzione Cioè dare gli strumenti Ai fedeli Che adesso A differenza di 700 miliardi di anni fa Possono capire Determinate cose Sarebbe Basta Noi ci leviamo dal cazzo Rimaniamo una nazione Facciamo del bene Facciamo operazioni Umanitari Diamo tutte le risorse Che abbiamo Come aiuto Ma Non dobbiamo più Spiegarvi Quello che dovete fare Nel timore Di scontentare Un Dio superiore No Magari vi diamo Delle lezioni di vita Vi aiutiamo A conoscere meglio Voi stessi E' quello che dovrebbe fare Anche secondo me Un prete Poi Se uno creda Non creda al Dio E' un influente Però quanto Potrebbe gozzare Secondo voi La figura di Un prete Influencer E Che fa l'influencer Nel modo come lo fa lui Attenzione Alcuno potrebbe pure Stare sui social Ma non essere Niente Ego riferito E magari Da bei messaggi Cioè io non Non condannerei Per dire Un comportamento così E Però è complicato E' complicato E' banalizzato Proprio In generale Proprio una figura Di chiesa Sui social Poccozza Sì Poi ovviamente Se uno te lo dice così Prima chitto Poi ovvio Non dovrebbe analizzare Poi uno te dice Vabbè però la chiesa Ha sempre bisogno di fedeli E i fedeli Hanno bisogno della chiesa No Quindi Noi in realtà Recuperiamo le pecorelle smarrite E lo faccio anche Attraverso i nuovi mezzi E ciò può stare E il problema è che I nuovi mezzi Sono tentatori Utilizzando Il loro linguaggio E quindi E' facile che Anche partendo Da buone intenzioni Il ragazzo Che semplicemente Il ragazzo L'uomo Insomma Che semplicemente Cerca Di Veicolare Un messaggio A più persone Rimanga magari Schiavo Di meccanismi Da facili consensi Da like Da bollicioni Ma marra Questo nuovo Papa Francesco I vescovi Non sono d'accordo Nelle cose che dice C'è molto Tu molto In Vaticano Per fare Francesco Mental E' quello Che ti sto Dicendo A parte il fatto Che Papa Francesco E' molto Più di facciata Che nella sostanza Un Papa Rivoluzionario Però All'interno Del contesto Ecclesiastico E' comunque Troppo Rivoluzionario Ed è per questo Che infatti E' stato utile Per riprendere Consenso popolare Invece Ratzinger Stava sul cazzo A tutti Ma Ovviamente Non è amato Da Dai fondamentalisti Cioè dai dogmatici Interni al Vaticano Dall'Ecclesia Vaticana Che era più Sulla linea Ratzinger Però quello che dico io E' O Utilizzi L'approccio Di totale apertura E totale distruzione Smantellamento Del classismo Vaticano E quindi Il Vaticano Rimane come Ente Che può aiutare Le persone Che sicuramente Dà Dei fedeli Che aiuta Nella lettura Dei testi sacri Tutto quello che cazzo vuoi Ma non è più Il papà cattivo Che ti tira lo schiaffone Se fai la cosa Che c'è scritta Nel testo Nell'antico testamento Ma è qualcosa Che si evolve Con i tempi E diventa quasi Più una filosofia Ok Che è una religione Dogmatica Oppure Rimani solido Come Ratzinger Nel momento in cui Rimani solido Io spesso mi accorgo Come col Corano Magari figure Anche cristiane Cattoliche Che hanno queste Consapevolezze Infatti Non parlano mai Di Dio Come il Signore Che sta in cielo Perché hanno capito Ormai che è una cazzata Ti fanno discorsi Più generali Filosofi Di solito Quelli sono le persone Che fanno del bene Di solito Quelli sono i preti A prescindere poi Da Anche da Da un prete Senza colletto Quelli sono Uomini Che fanno del bene Sì esatto Punto Se parli ancora Di un Dio Quasi antropomorfo Stai proprio indietro Sì Finalmente usi ancora L'immagine del Dio Che ha una volontà Che ti guarda Che non funziona Neanche più Non fa neanche più Paura Cioè Quel Dio lì Era Semplicemente Uno strumento Per tenere a bada Dei barbari Punto Con la paura Era fattualmente così Basta Esattamente come Tutta la fobia Legata alla sessualità Ma che cazzo Gliene fregava Al Gesù De turno Del sesso omosessuale Ma che gli fregava Avrebbe detto Scopate Ma secondo te Due uomini Che si amano Cioè Gesù Avrebbe detto No regà Al culo no Se diceva No Al culo no Gesù non si è espresso Sulla sessualità Sue cose Ha detto Anzi Non giudicate La maddalena Ricordo La prostituta Seguiamo molto Sti esempi Invece Gesù Il finto Gesù Negli anni Ebbene Però i gay No Non era i gay No Era semplicemente Scopando col culo Se rischiano più malattie Questo era E giustamente Dovono dirla A quei popoli Barbari Senza informazione Ad oggi Che delle informazioni Medico-scientifiche Fortunamente le abbiamo Possiamo un attimo Analizzare temi Di un certo tipo E anche lì Il discorso del peccato Certo Se tu Diventi dipendente Da qualsiasi cosa La pornografia Anche il sesso Che cazzo ne so La nicotina Qualsiasi cosa Al caffè Netflix Lì Stai compiendo Un peccato Verso te stesso Verso La bellezza Della vita Che hai Stai negando La vita Che è attorno Stai sostituendo Il piacere della vita Con piaceri Fittizi Con pagliati Sono cose che poi A lunga ti fanno male Capito Perché anche i social C'è la dopamina Dei like Però tu Non stai veramente Vivendo Come dovresti Quello è il peccato Che fai te stesso Non è che c'è Dio Che dicevo Ti sei fatto troppe pippe oggi È quando non sei libero È quando non sei in grado Di esercitare Il tuo vero libero arbitrio Diventi schiavo Diventi schiavo E per il primo momento Mi sono dovuto alzare Per fumare una sigaretta Non è libero arbitrio questo No È una dipendenza È una schiavitù Esatto Che mi vivo tutti i giorni E so che opera su me Come un demone E uno potrebbe dire È un peccato È un peccato Che io investa Che ne so Delle mie energie mentali O perda della salute Per questa cosa qua Sì E infatti peccato Ha più significati Cioè Non è solo peccaminoso Inteso come Dovrai scontare Una pena Eh Si dice no Che peccato Che quel ragazzo Che peccato Che quel ragazzo Si sia tolto la vita No Certo Che peccato Che quel ragazzo O quella ragazza Siano dipendenti Da O su te stesso Che peccato Questo è il discorso Poi ovviamente La religione può dare Dei buoni messaggi Certo Su come Non essere dipendenti Ed essere liberi Però Appunto Come stiamo a dire Ormai Specie in questo esempio Che abbiamo appena visto Vengono detti Con linguaggi Ormai Che non arrivano Ma no Ma anche Non dicono niente Mi viene in mente pure La famosa frase Poi vabbè Il cristianesimo Ovviamente Essendo molto più Cioè il nuovo testamento Rispetto all'antico Aveva già Dei concetti filosofici Presi anche Da altre filosofie No E quindi ovviamente Più moderno Però anche il banale Chi è senza peccato Scagli la prima pietra È una cosa Ovviamente Facilmente traducibile Nei nostri tempi Esatto Perché nessuno È senza peccato Capito Cioè il boomer Che oggi Il boomer La persona Che oggi Su facebook Te scrive Ah sta puttana Che guagna più di me Sotto all'articolo X Sta scagliando La prima pietra Certo Guardati prima tu All'interno Quello che cos'è Semplicemente Cerca di Avere un minimo Di empatia Prova di immedesimarti In quella situazione No Non fare agli altri Quello che non vorresti Quello non è che Cioè anche mettiti Nei panni del prossimo Perché il prossimo Sei tu Poi Se ci arrivi Tramite una comunità cristiana Ok Se ci arrivi Tramite una filosofia Alla Rick Dufer Che studi Cazzo non so Plauto Ok Se ci arrivi Tramite l'intuizione Va bene Uguale Se ci arrivi Tramite l'empatia Cioè il risultato Alla fine è quello che conta Certo Poi Gesù Dio Possono essere dei mezzi Per farti stare meglio Con gli altri Sì Però appunto È meglio averle capite Da sé Quelle cose Perché poi così Riesci a comprendere Quello che te sta Dì un prete Se no Se si rimane Con questo problema Di comunicazione Il prete magari dice Anche cose che risuonerebbero Ma le persone Non le recepiscono Sembrano parole arcaiche Vuote Ripetute anche a pappagallo Bravo Infatti stava a dire Quello È proprio l'effetto Pappagallo Stava a dire Guarda Siamo proprio l'effetto Pappagallo Persone che dicono cose Ma non sanno cosa voglio dire Vuote Come l'esempio che ha fatto A pietra Esattamente Ad esempio Consiglio questo canale Per chi parla inglese Redeemed Zoomer L'ho trovato proprio a caso Lo Zoomer Redento È un pischelletto Molto intelligente Bravissimo A fare i video Che dove parla Approfonditamente Di teologia Tipo Che ne so Video più popolari Io ho visto Tutte le denominazioni Cristiane Spiegate in 12 minuti Presbiteriano Metodista Spiega in modo semplice Bello Anche Luterano Figo In Italia La maggior parte Sto pentecostale Di cosa parla Ogni libro Della Bibbia E poi è un pischelletto Lo spiega proprio Ho capito Che lo senti Questo è Capito Me lo spiega Come se fossimo amici Sta sul pezzo Ah ecco Questo pure è bello È il primo video Che ho visto Tutte le argomentazioni A favore dell'esistenza Di Dio In 10 minuti Lo vogliamo vedere Non so se c'è i sottotitoli Vai 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 Questo Tra l'altro Oddio Questo qua Mi vorrà Convinci Che Dio esiste Che palle Sarà Dio Don Alberto De Turno E invece no Capito Si può fare Si può comunicare Un'analisi Che non è una Propaganda Certo È un'analisi La nonna di Pantellas Immagino sia Un'analisi Dei dati storici No? Storici e filosofici Anche Quello che nell'umanità C'è Tutte le argomentazioni Diciamo Migliori Che l'umanità Ha tirato fuori Fino a mo Sull'esistenza di Dio Poi ovviamente Dio inteso Come varie figure Dio Immagino Visconti Quello coccodrillo Chiavelli lunghi Visconti Tutte le varie Religioni No nel senso Simo te lo spiego meglio È legato a Le religioni Il concetto di Dio Per religioni O il concetto Del Dio cristiano Tutte le religioni Tutte le religioni Oh ok E' quello che avevo detto Ok Sì 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 Allora ecco Aspettate un attimo Prova a metti Sottotitoli Traduzione Automatica Eh sì sì Sottotitoli Unless you're raised in a Baptist Sunday School, you probably think that if you believe in God, you should be able to explain why. Luckily, Christians and other philosophers have been answering this question for over 2,000 years. Evidentialism tries to argue for God by giving evidence of supernatural events. For example, a lot of Christians think the resurrection of Christ can be historically proven because there were a lot of eyewitnesses who all died for their faith and generally people don't die for something they know isn't true. Questa non... personalmente non è molto convincente. I testimoni oculari dei tuoi anni fa. L'argomentazione evidenziale, no? Non è molto... Direi di no. Ci sono pure sti video sulle fallaci logiche. Quindi che le spiegano una ad una. Molto simile. Questa per me è una fallacia. No? Beh. Che cazzo... Evidence of supernatural things like demonic possessions where people start speaking in language that they don't know. Or near-death experiences where people see things outside their body that they shouldn't have been able to see. Sì, ma pure tutti gli esorcismi, tutta la gente che ha visto miracoli, divinità, madonne... Sì, ma poi nella cultura, nel folklore... Ma anche in tempi recenti, eh. Sì, ma io mi ricordo nel paese mio che si diceva che il santo... 500 anni fa aveva combattuto in Calabria, vicino a Bagnale, aveva combattuto col diavolo, aveva distrutto la montagna e c'era gente che diceva che all'epoca c'era chi ci credeva, cioè l'aveva visto proprio. Sì, tu vedi una cosa... Questo è un bias. Questo è un bias. Questo è un bias. Io credo che esiste Dio, quindi cerco prove della sua esistenza, un po' ondo, coio, coio. Ah, è successo quella cosa? Dio. Io da ragazzino invece affascinavo che c'era sta roccia dove dicevano che c'era l'impronta del diavolo proprio, perché l'aveva schiacciata e che c'era sta specie di impronta, ma non sembrava manco un'impronta. Del diavolo proprio. Sì, sì, il diavolo. Ammazzo. Morale. Diavolo. Esiste una morale universale? Io ritengo di sì. Da dove ci arriva? Questo è interessante. Da dove viene quel senso di morale, diciamo, condiviso, un po' accettato da tutti? Vabbè, in Europa è molto la morale cristiana. No, diciamo, vabbè, noi abbiamo i diritti inviolabili dell'essere umano, però morale universale, ni, ti direi ni. Beh, no, cambia da cultura a cultura. Ti direi ni. Pensiamo anche al rapporto con gli animali, no? Alcune culture, anche antiche, c'erano un rapporto completamente diverso con gli animali che sono sempre esseri viventi, no? Sì, tipo gli induisti. Ma anche, che ne so, alcuni ceppi di nativi americani, alcune tribù. Sì, sì. Un po' particolare, non lo so. Invece noi, allevamenti intensivi, sti cazzi, ma potevano produrre, so, carne da macello, letteralmente, no? Dai, comunque sono un po' stanco, penso che... Io se dovrò anche quello che siamo... Lo possiamo pure riprendere, tanto io voglio vedere pure quel sito lì, eh, del tizio. Sono molto curioso. Sono molto curioso. Io una cosa che mi ha sempre affascinato... Chiude, prima che chiudemmo. Vai. Ma quella, secondo me, deriva pure da famiglie, anni dopo anni, generazioni dopo generazioni, un tempo proprio c'è stato, che ne so, l'inquisizione, c'era chi te arrestava se andavi in giro senza cappello e non ti comportavi bene e non avevi... Senza quel cappello. Senza il cappello. Faccivi te una caviglia. E quindi? E quindi pure quello è passato da famiglie... Cioè, ci stanno dei pudori, delle paure, tipo che... No, secondo me ci sono... Ma quello non è morale universale, quelle sono cazzate del tempo, cioè sono anzi... No, secondo me più che morale universale ci sono però ovviamente dei pattern comportamentali degli animali compresi gli esseri umani, cioè alcune... alcuni meccanismi di protezione ovviamente per far sì che la specie vada avanti ci sono in tutte le culture, ci sono sempre state, cioè la paura che poi ti porta a fare determinate azioni, il meccanismo tribale, perché ci si raduna in quel modo, cioè quelli sì, e da lì poi nascono... È umano, non è culturale, quindi viene da prima... No, no, quello è istintivo proprio, cioè... Viene prima della cultura, questo video. Sì, secondo me sì, però quelle cose poi hanno portato alla creazione delle culture. Certo. Poi da là tutte le diverse derivazioni, ovviamente. Dai, regà, ci vediamo alle ore 21 per il Valori Gate, domani alle 15 continuiamo questo discorso, è molto interessante. Bella, regà. Belli King, ciao ciao, a dopo, a dopo. Che squali? Stati a arrivare! Ello! Grocer! Buonpreso. Z21! Buon appetito! Sì! Sì, buon appetito! Grazie!